Una serata ricca di riflessioni avviate con i saluti sul palco del sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, di Giulia D'Alessandro, presidente della sottosezione di Marsala dell'Associazione Nazionale Magistrati, di Salvatore Inguì, referente di Libera per la provincia, di Enzo Sturiano, presidente del Consiglio Comunale, di Sergio Gulotta, presidente di sezione al Tribunale di Marsala, e di Rodolfo Sabelli, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Nazionale. A seguire il reading con la regia di Alessio Piazza, dal titolo Io mi ricordo, e in chiusura la proiezione di uno stralcio dell'intervista realizzata dall'Amberto Sposini proprio a Paolo Borsellino. Sarà un reading dal titolo Io mi ricordo e saranno dei brani legati alla figura di Paolo Borsellino. Io devo ringraziare questi miei straordinari otto attori marsalesi che hanno accettato l'invito a donare questa serata, questa sera, una piccola parte del loro talento, quindi li devo ringraziare molto. L'idea fondamentale è data soprattutto dal ritmo del reading, perché sappiamo bene che le commemorazioni sono sempre dei momenti di spettacolo difficili da gestire, per cui sicuramente abbiamo puntato e ho puntato sul talento degli attori professionisti di Marsala. Proprio oggi la giornata è dedicata a Paolo Borsellino, è una giornata, come dirò nel mio breve intervento, non di commemorazione ma di ricordo di Paolo Borsellino, di ricordo per tutti quelli che lo hanno conosciuto e di conoscenza per quelli che questo privilegio non l'hanno avuto. Ed è soltanto a questo che oggi dobbiamo pensare, alla persona di Paolo Borsellino, degli uomini della sua scorta, a tutto quello che Paolo Borsellino ha fatto in genere e per questa città.